wow noi abbiamo una giro bici bici giro qui e perché questa strada nostra strada è chiusa un biciclista wow ha ha e la polizia wow come giri wow come giri le biciclista come giri e aduca pe questi non smievo pe questi dai che ti può vedere guarda biciclisti wow si niente noi abbiamo una gara di bicicleta in la nostra città oggi e questo è tutto bene ci vediamo alla prossima volta